Oggi abbiamo presentato qui in Senato della Repubblica l'albo d'oro degli insigniti di onorificenze cavalleresche. È un modo per far presente a tutte le nuove generazioni e non solo, che sono tutte quelle persone che sono distinte nella società per il lavoro, per il loro impegno nel sociale, nella cultura, per il loro percorso all'interno della comunità. E credo che questo rappresenta un valore, un principio che parte dai valori della famiglia che sono poi riportate all'interno della società tutta. Abbiamo approfittato di questo anno 2024, perché sono passati esattamente 75 anni, 1949-2024, per presentare questo albo d'oro, che per noi è una vetrina importantissima, perché certifica il valore e l'importanza di essere soci della nostra associazione, laddove in questo albo d'oro ci sono l'elenco e la biografia di tutti i nostri delegati che hanno lavorato e lavorano per fare grande la nostra associazione. È un albo d'oro che sintetizza tutti quelli che sono le biografie, dei soci più rappresentativi di Agnioc, che sono il vero cuore pulsante dell'associazione e l'albo si pone come cassa di risonanza per propagare tutti quei valori fondanti dell'associazione alle generazioni future.